Ci sarà una sparatoria, Wyatt? Ci sarà, e come? Ti devo dire una cosa, Wyatt. Lo dissi ai tuoi fratelli quando si sono buttati nella mischia e adesso lo dico anche a te. Tu sai che io sono un uomo che crede nella legge, dopo la famiglia è l'unica cosa nella quale bisogna credere. Ma c'è un sacco di gente che se ne frega della legge. Gente che non si ferma davanti a nessuna nefandezza e che se ne frega di fare del male. Quando ti trovi a batterti con gente simile, spara per primo se puoi. E quando spari, spara per uccidere. Boom. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sarò la tua famiglia, White. Ti darò dei figli. E andremo a stare dove nessuno ci troverà più. E ti sarò vicino fino alla morte. Io sono già morto. Quindi se hai deciso che vuoi coprirti di gloria, ti darò una mano. Tieni sempre vicino alla famiglia. Niente conta più del sangue. Tutti gli altri sono estranei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.